Cosa vuol dire porco olivio? Ma che cazzo non faccio che... Ma porco olivio! Música... Ma che cazzo non faccio... Ma che cazzo non faccio... per coffee o da muncher porco lindio in unica porco lindio porco 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 Forcolivio Forcolivio Forcolivio, via via Forcolivio 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 Ti chiama Livio questo mostro? Eh, Porco Livio sì! Porco Livio! Porco Livio! Porco Livio! Porco Livio! Il primo lomba è Porco Livio, anche se non si vede perché non si vede. Porco Livio! 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 ma bambu l'allibio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti buongiorno buon pomeriggio come cazzo vuoi pare dipende quando siete svegliati allora aspetta intanto fammi mettere l'ospite ma invece te quanto non ci capisci in cazzo ma sei cieco eccolo qua il nostro ospite salve salve guarda Luca Matteo quanto è puntuale guarda Luca Matteo come è puntuale Luca Matteo tutto puntuale tu lo conosci Luca Matteo? chi è? questa è la risposta giusta questa è la risposta le ali del profeta nessuno sua amistad dell'imello è la cricca è tutta la cricca su tutti loro certo certo non so se ci hai fatto caso sulla live di Anime Night in alto a destra dove c'è scritto sab del giorno c'è una piccola immagine di un personaggio chiaro 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 ma è giusto così Luca Matteo è l'anello debole di Wadis perché Telly più volte mi ha ripetuto il nome quindi me le ricordo però Luca Matteo no considera che tu oggi sei l'ospite iperatteso tutti ti volevano eccolo qui eccolo qui però secondo me la chat ci avrà lo prenderà in culo va bene per i suoi dici lui è il messia della chat io ho disquisito su alcune cose poi ne parliamo ne parliamo ne parliamo sempre oggettivamente oggettivamente oh bravo che bella parola ho esordito dicendo no perché loro in te vedono un difensore di One Piece eccetera e mi fanno guarda su molte cose io sono anche d'accordo e gli faccio lo sai perché perché noi effettivamente non è che ce l'abbiamo con One Piece noi ce l'abbiamo con la gente che difende One Piece che è diverso perché se tu leggi una cazzata ad esempio i libri i libri di O'Hara io mi sono sbudellato da ridere in live eh l'ho vista l'ho visto quel pezzo è un cataclismo ma sì vabbè ma perché che devi fare cioè secondo me o la prendi a ridere o ti disperi per forza io ho scelto proprio con criterio quando è finita il reverie è cominciato Wano io lì sono morto dentro io sono morto perché io mi aspettavo delle grandi rivelazioni non c'è nessun cazzo a parte l'occhio della madre di Im con il contaggio analogico non è successo niente io lì sono morto nel vedere Wano inizialato si sono morto e mi sono detto o io comincio a ridere delle stronzate che fa oppure io lo mollo perché non ne posso più dopo Wall K Kaila non ne potevo più quindi adesso la prendo a sorridere quindi qualsiasi cosa io vedo che fa ridere la mi sganascio ma mi sganascio a più di gusto perché sono porcherie che poi è l'obiettivo di Oda è il manco del sorriso ovvio ovvio chiaro e comunque gli stavo dicendo il problema è che noi magari diciamo questa è una stronzata e finirebbe lì andiamo avanti è una stronzata andiamo avanti ed è la chat che arriva non è vero non è vero torna tutto eh no perché nel capitolo 322 sì perché in realtà c'è un'immagine ma è bello sfocata in realtà fa ma in realtà non lo dice e loro non li vabbè cazzate e io ho detto prima fuori dalla live io ho detto io ad esempio Dragon Ball lo amo a me piace tantissimo Dragon Ball però mi conosco quando c'è una cazzata questa è una cazzata andiamo avanti è una stronzata andiamo avanti è ingiustificabile certo e invece no però ieri esatto volevo agganciarmi perché ieri ho fatto una top perché noi alla fine della live facciamo delle top così top 5 e c'era top 5 cose ingiustificabili dei manga e anime fatti ingiustificabili ci ho messo anche i libri di di Oana che non si sciolgono no che non si sciolgono esatto e poi ho messo il nucleo di Cell ok 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 il bug ti autodistruggi ti sei autodistrutto si poi vabbè se no non ti sei autodistrutto oppure Goku prima dice poi Cell dice che è nella testa quando Goku gli ha spappolato da qua in su cose così ed ha lasciato anche lì no torna tutto torno l'ha spiegato tizio Caio Oselot ci ha fatto un video e sblastiamo questo video ma me l'hanno mandato si si quindi ora si dovrà fare una live sai cosa che penso che quando lo deve giustificare il fan già lì di per sé è sbagliato bravo perché un conto l'autore te lo giustifica nella storia non fuori non con l'SBS non con il magazine non con la Vivre Cab cioè nella storia te lo deve giustificare se non te lo giustifica o è inutile e quindi non serve giustificarlo quindi tu devi prenderlo per com'è oppure ha sbagliato qualcosa questa è poi ne possiamo raccontarci tutto quello che ci sta intorno possiamo inventarci questo quello quell'altro possiamo vedere sovraletture tutto quello che vogliamo però nel manga se butti i libri nell'acqua e l'acqua non lo scioglie o l'acqua non scioglie l'inchiostro e la carta non diventa carta besta oppure c'è qualcosa che non funziona punto sì sì che per me te dirò quello vabbè però lì più che altro si parlava più che altro dell'inettitudine dei marins no? tu penso che sia della linea del maestro sommo i cinque astri di demenza sì quello lo devi prendere a ridere cioè lì hai un gruppo di statali che lavorano male il governo mondiale dicono uccidete Oara va bene però ci sono dei libri lasciali lì tanto chi se ne frega nessuno li legge invece no invece arrivano gli zozzoni da Elbaf gli zoticoni e portano via e diventano i più grandi acculturati del mondo questo è bello bello magari funzionasse così dovremmo lasciare più i libri incredibile se tu butti i libri dentro nella Darsena Milano nella Vigli vedrai che diventano tutti scienziati bella questa mi piace interessante un po' di libri di Pontesisto vedete che la gente migliora allora guarda ogni tanto secondo me ci può anche stare che dici ho letto una cosa ho visto una cosa non l'ho capita un altro me la spiega dico ah cazzo è vero certo ci sta ci sta non siamo onniscenti capita che ci sfugge qualcosa il problema è primo quando cominci a doverlo fare ogni tre capitoli una volta possono non aver capito due volte possono non aver capito la terza volta forse c'è qualcosa che non torna perché poi il problema è che a volte secondo me le discussioni che si creano non sono più date da un'effettiva forzatura narrativa buco di trama che vedi nel momento ma sono date da una forzatura narrativa un buco di trama conseguenti a una giustificazione che la gente si è data su una cosa che invece non era così sì sì no è vero c'è una reazione a catena che ti porta a discutere di cose che proprio ormai non ci sono più nel manga è vero come l'Aki sì sì se tu discuti quella cosa allora però poi non torna la cosa che ti hai rifatto tornare in quel modo 200 capitoli prima la devi continuare a difendere la cosa che avevi detto 200 capitoli prima e quindi è questa che non torna la devi trovare una nuova giustificazione crei un nuovo castello di carta sopra quello che avevi fatto 200 capitoli prima e poi c'è questo impero di castelli di carta che alla fine uno tocca l'ultima carta un disastro crolla tutto certo perché poi è su tutte sovraletture giustifichi la tua sovralettura con una sovralettura con una sovralettura e l'autore magari non gliene frega niente cioè è come giustificare i livelli di forza in 1p ci sono gente che si scannano si picchiano per i livelli di forza ma Oda stesso gli prende per il culo i livelli di forza cioè Rufy che cosa sta facendo adesso Kaido era decisamente più forte di lui ma adesso lui è Dio può fare quello che vuole quindi i livelli di forza sono stati a quale paese in tre secondi e nonostante quello poi lui scappa da una battaglia che sta stravincendo però sì ma sì vabbè attualmente è quello seguiamo il piano attualmente c'è una faida che va avanti sul nostro canale da troppo secondo me perché è una faida inutile inutile veramente la cosa io penso di aver discusso su molte cose stupide ma su questa guarda questa è durata tanto dura tutt'ora dura tutt'ora infatti venerdì verrà una persona per blastare su questa cosa ovvero il bug Kizaru allora Kizaru è luce ma non va alla velocità della luce allora lì se la possiamo giocare in due modi o semplicemente non lo ha ancora fatto lui si muove bene o male rapidamente o non l'ha ancora fatto o semplicemente il suo ritardo mentale nel senso che lui è molto lento a ragionare a parlare a ragionare non gli permette di fare questa cosa cioè è il suo contrapasso lui è talmente potente e veloce che la sua mente che è lenta a ragionare a parlare non gli fa fare questo guardalo appena l'hai nominato guardalo nel chat subito è il suo contrapasso è il suo color non avete capito ma allora guarda infatti quello che dico perché poi questo è un esempio di due o tre cose che adesso poi ti dico per cui cioè uno dice una frase che potrebbe cadere lì e invece poi si creano settimane di litigare e discussioni perché nessuno vuole lasciare un centimetro non si molla un cazzo e cioè quello che dico io se Kizaru andasse alla velocità della luce è che a livello di struttura narrativa proprio viene male che un personaggio di One Piece vada alla velocità della luce perché la struttura narrativa di One Piece si basa su un'esplorazione e su una scoperta di posti percepiti come quasi inarrivabili certo che se i personaggi cominciano ad andare alla velocità della luce si perde tutta questa cosa perché io la luce della luce arrivo ovunque in qualsiasi momento sempre certo neanche un secondo cioè tu fai il giro della terra in un frame 0 virgola in un secondo esatto diciamo che è un po' più grande che quella di One Piece ne fai tre invece di sette vabbè pazienza insomma se vuoi te ne do un altro di bug se vuoi vai il fatto che l'ultima isola non Love Tale ma l'Old Star sia inaccessibile perché soltanto Roger è riuscito a arrivarci dopo tanti anni però la gente vola eh sì sì certo no no ma infatti ma infatti perché poi c'è anche lì c'è una conseguenza allora loro dicono Kizaru va alla velocità della luce e dai colpi alla velocità della luce ok però però Ralig li para quei colpi certo e quindi allora va alla velocità della luce pure Ralig perché se no come fa a parar i colpi di Kizaru eh sì capito allora dici diciamo non luce sub luce cioè allora poi tutti i personaggi paragonabili a Ralig vanno a velocità sub luce grazie e quindi allora facciamo cura certo è che lì noi tante volte cerchiamo di spiegare One Piece con la scienza e la logica del nostro mondo ma One Piece è un mondo a sé quindi magari la luce in One Piece non è veloce come quella del mondo nostro oh vedi ma ci basta un attimo è quello che gli ho detto pure io la spiegazione migliore è nella fisica di One Piece la velocità della luce è un po' veloce cioè non è la nostra non è 300 km al secondo non lo so stride anche in questo però ma sì ma allora ma sì va bene però stride anche in questo perché dovresti cioè dovresti avere un scusa un ritardo nel momento in cui guardi le cose ah no che questo tu presupponendo il fatto che c'è questa relazione lo sai qual è anche la cosa che tu ad esempio uno lo giustifica con lui non va alla velocità della luce la maggior parte delle volte perché la sua mente non ragiona alla velocità della luce però anche lì a volte si trasforma in luce per 50 metri cioè 50 metri alla velocità della luce non è un miliardesimo di secondo pure di meno non lo so potrebbe fermarsi è come non so l'hai visto Fullmetal Alchemist tipo tu tu fai così ta ta e sei già no perché in Fullmetal Alchemist c'è un personaggio interessante che tratta questo argomento cioè lui fisicamente è velocissimo ma mentalmente non riesce a starci dietro e quindi va a sbattere ok ha senso no perché dici anche se io dico adesso voglio andare velocissimo ma poi la mia mente non gli sta dietro non riesco a fermarmi certo e quindi va a sbattere cioè in teoria dovrebbe capitare quello a Kizzaro se veramente andasse a tratti a velocità della luce cioè non si dovrebbe riuscire a fermare perché lui è lento mentalmente e non riesce a darsi l'ordine di fermarsi in tempo chiaro ma anche il colpo che dà Hawkins quando dice hai mai preso un calcio alla velocità della luce sì sì un calcio alla velocità della luce non è che ti spolpa di più ma sì non esisti più quindi comunque è un la luce fino a un certo punto ecco va 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 sospesa all'incredulità altrimenti non funziona niente ma sì ma infatti basta vederlo come un'allegoria cioè rappresenta una cosa Kizzaro lì non bisogna innanzitutto andare a cascata da tutti gli altri personaggi rispetto a Kizzaro e secondo poi non si non si può paragonare Kizzaro a un altro personaggio in un altro posto che va cioè Kizzaro non è Flash per dire no no certo è tutto lì e va bene ma da questo punto ad esempio perché poi secondo me Oda se ne accorge cioè Oda non è scemo Oda Oda si accorge quando fa una cazzata e comincia a insabbiarla ok ok ci mette sopra le cose perché e con Kizzaro sta facendo così capito ogni tanto gli fa dire la cosa che è lento poi e vabbè si velocità della luce è relativa è pigro vediamo e un'altra cioè io l'ho percepita allo stesso modo con la calmatolite ok cioè all'inizio quando è uscita fuori la storia della calmatolite era una novità quindi è stata utilizzata con Smoker eccetera ed era anche in quel momento l'unica alternativa all'intangibilità dei Logia ok e quindi lì gli serviva poi però si è reso conto che se volessimo essere ragionare in maniera logica qualsiasi personaggio di un certo rilievo se se lo può permettere si compra un qualche tipo di oggetto arma e da calmatolite si ti ricordi all'Octan c'erano le reti addirittura esatto però queste reti chi ce l'ha sempre dei truppini non aim perché così sono coglioni sono coglioni non riescono a usarle come si deve perché non è che dici arriva a Katakuri con la rete di di calmatolite perché Katakuri con la rete di calmatolite ti ha buttato al culo però però a Marineford c'è Onigumo che prende Marco e gli mette le manettine è vero è vero ogni tanto qualcuno ma perché anche lui Spara alla chiave con il laser non alla testa qui ma alla chiave spara e lui gli mette le manettine è vero perché anche lì dice quel personaggio è molto più debole di Marco allora gli diamo una cosa per cercare di metterlo in difficoltà però non ce l'ha mai il personaggio forte queste cose perché se la punta della mazza di Kaido fosse in calmatolite vai a rompere scatole a Kaido mi voglia hai capito ma tra l'altro paradossalmente sei a Wano paese dove nasce l'algamatolite non ti munisci di algamatolite no ma non c'è non c'è un personaggio della ciurma di Kaido che usa la calmatolite nessuno ma incredibile soltanto chi è quello stronzo che aveva i chiodi beh Kumurasaki aveva i chiodi per fermarlo conto al muro e poi c'era qualcun altro forse era Hawkins che si lamentava dei chiodi qualcosa sì Hawkins che temeva questa perché Hawkins sembrava uno dei pochi che ragiona nel mondo di One Piece quindi effettivamente era cartomante era Anna Maria Galanti lui esatto infatti se lo siamo levati dai scatole così la gente che pensa non ci piace morto va morto vedremo vabbè questo non lo so secondo te è morto Hawkins no l'unico l'unico morto che c'è nessuno forse l'autore io temo ancora che adesso spunti pedo nella mini avventura del germa 66 vabbè io ti do quasi più scontato che torna Big Mom nella saga dei giganti torna come Darth Vader vedrai sì ci sta dai bello Darth Vader no fa schifo io ho una domanda io ho una domanda che quando si parla di One Piece è d'obbligo secondo me ok sentiamo che cos'è il One Piece io ne ho avute tanti di pensieri ne ho avuti veramente un sacco da teorie marce putride putrescenti l'ultima che mi piace che mi sono formulato è il fatto che ci sia lo stesso cappello di Rufy che è il cappello di Rufy perché c'è questo paradosso temporale dove Rufy è venuto nel tempo e lui diventa Joy Boy lui è stesso Joy Boy è sempre lui è sempre lui che lascia il cappello suo a Love Tail e Roger quando arriva lì dice ma che cazzo gli fa il mio cappello l'ho dato a Shanks due settimane fa boh vabbè questa cosa mi piaceva cioè il cappello il suo tesoro si mette a ridere per quello sì perché è sempre stato il suo tesoro è sempre stato quel tesoro lì una sciocchezza un cappello marcio non lo so quindi per te quindi per te tipo un loop temporale è una cosa che mi sono flashato l'ultimo l'ultimo autunno abbiamo visto questa teoria putrida del maestro Ara non so se lo conoscete è un youtuber gigantesco tedesco che fa i video in inglese fa le cose più putride ce le ha tutte lui e c'era questa teoria che parlava di questo trip temporale io sono andato a cercare di capirlo ho allenato i puntini ho fatto tutto potenzialmente funziona ci sono cose che possono pensarti è terribile fa paura però potrebbe secondo me se fosse il cappello di Rufy One Piece lo sfanculano lo so lo so perché altrimenti non saprei davvero cosa possa essere a me la teoria quella del fumetto che parlava anche Moccia di Ferro 88 mi fa schifo all'inverosimia a me piace tantissimo perché 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 renderebbe il mondo di One Piece falso cioè io so che è falso un fumetto però loro nel loro mondo sono veri sono vivi se loro fossero frutto di un fumetto sarebbero finti e a me dispiacerebbe da matti se tutto quello che loro hanno vissuto però non sanno di essere finti e loro no però nel senso nel momento in cui Oden legge la Rival of Tale e sa di essere finto che cosa va a combattere contro Kaido se lui sa di morire già bravo bravo è quello che dico io no ma guardate che c'è una sottovalutazione dell'inevitabilità del futuro c'è un personaggio di una storia che viene a conoscenza dell'inevitabilità del futuro cambia completamente il suo il suo essere il suo modo di fare questo ragionamento che fa Meliador il ragionamento che fa Oda è è figo lo faccio ok però poi io sono libero di insultarlo ovvio però secondo me è una cosa che esce abbastanza fuori dagli schemi che io apprezzerei tanto cioè è una cosa diversa è bello che chiunque abbia il One Piece a casa un pezzo del One Piece un pezzo ma già lo hai volendo però mi sembra veramente una cosa triste che ci sia il fumetto meglio del cappello però ma meglio del cappello no piuttosto preferisco due gonadi di un toro che mi farebbe più ridere per dirti totalmente a caso ma il fumetto no che senso ha cioè lo arrivano lì lo guardano e mo no perché la libertà di Rufy la libertà di Rufy io la vedo allora lui infatti dice io mi sento libero infatti a me piacerebbe se avesse pensato una cosa del genere che quando si trasforma in Gear 5 inizia a spaccare tipo anche proprio le le vignette le vignette abbiamo detto di questa cosa che può fare come fa si fa anche Goku che colpiva la vignetta quello era la quarta paese va bene d'accordo però Luca Matteo ti dice di no un conto è giocare un conto è giocare l'ha detto non può essere il One Piece ha detto e allora niente allora che schifo cosa ha detto oggi che Oda ha parlato in un'intervista per il ventennale ha spiegato che questa teoria penso del fumetto non può essere le One Piece che cazzo ne sa Oda oh no me lo dice lui stesso e non lo sa che cazzo ne sa Oda Oda sta disegnando lui inventa no a parte gli scherzi a me non piacerebbe se fosse così ma proprio perché soltanto perché l'idea che loro non possano essere reali nel loro mondo non mi piace se lo sarà vedremo come lo giustifica se lo giustifica eccetera eccetera invece ti voglio dire una cosa perché è un po' che ci penso ma secondo te il governo sa cos'è il One Piece e allora dipende sempre da quel cappellone che c'è a Marie Joanne ad esempio vi ricordate che vanno a vedere il cappellone dipende se loro sono personaggi che sono lì da una vita i cinque vecchi no sono cinque messi lì a casa ultimamente perché non si sapevano di Nick ah sì una leggenda anche per noi cazzate cazzate però c'è da capire se quella figura misteriosa in ombra possa essere lì da tanto tempo o no se non è lì da tanto tempo magari no perché il tesoro di Joy Boy e per loro magari il tesoro che era per Joy Boy non era un tesoro se fosse il cappello per dirvi il governo che è tanto legato al denaro al potere alla gloria non vedebbe mai un cappello di paglia come un tesoro lo vedrebbe chi effettivamente lo indossava e lo considerava tale no è vero però a priori il fatto è questo però se tu non sai cosa c'è e tutti dicono che c'è un tesoro sì quello sì quello poi è un concetto di realtà interessante che anche adesso con Vegapunk che ci dice che anche il frutto dell'idealo si crea col desiderio delle persone Roger che quando dice il One Piece andate a cercarlo trovatelo anche Newgate che dice il One Piece esiste loro due dicendo quella frase hanno concretizzato qualcosa che potenzialmente potrebbe anche non esistere all'Aftail tu non lo sai se c'è nessuno l'ha mai visto però tu dicendo Roger che è stato esiste e Newgate che era compagnone di quell'altro sì il One Piece esiste tu l'hai concretizzato già quindi in testa di tutti c'è no 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 certo certo infatti quello che dico io è che cioè mi pare strano che vabbè è vero che sono dei coglioni quelli del governo però mi pare strano che un'entità che governa su tutto il mondo nel momento in cui sa che c'è un tesoro potenzialmente importante in un luogo certo non lo vado a prendere possiamo discutere su questo considerando quello che diceva Roger prima di arrivare a Laftail nel flashback diceva che c'era Rayleigh che parlava con Nettuno se vi ricordate diceva che il governo no no non era Rayleigh era Roger quando parlava con Newgate e Oden diceva che il governo diceva a tutti di non raggiungere la fine della Grand Line perché lì poteva esserci un grande tesoro nascosto era vietato quindi il governo sa che c'è qualcosa questo è indubbio questo è indiscutibile il punto è che cosa intendono loro per tesoro perché noi sappiamo che adesso c'è anche l'Old Star dove vieni a scoprire cose e il governo non la toglie di mezzo poi fa sparire l'ulusi a caso però l'Old Star sta ancora lì ad esempio ma infatti il mio cioè diciamo la mia teoria su cos'è il One Piece in realtà vai sentiamo io non so non so proprio cosa c'è di preciso ma la mia idea per farmi tornare questa situazione è che il One Piece è quella cosa che ha permesso al governo di dominare sul mondo per 800 anni e di conseguenza il governo sa cosa c'è e non vuole che nessuno arrivi lì perché chi arriva lì scopre il loro segreto cioè scopre il motivo per cui loro riescono a governare che è la loro la storia che hanno nascosto quindi cent'anni di vuoto è che sì la storia hanno nascosto vattela pesca cosa anche perché sono dei incoglioni cioè comunque ci sono dei coglioni che governano tutto il mondo eh sì che mica è facile eh sì nel senso è difficile tenere il controllo e senza facendo così tante cazzate riuscire comunque a tenere il controllo di tutto per 800 anni per 800 anni oh l'impero romano cioè sono forti comunque e quindi boh cioè secondo me cioè io mi sono convinto che il governo lo sa che c'è lì e non vuole far arrivare gli altri perché e tra l'altro è anche una cosa che non può essere spostata in teoria perché altrimenti loro avrebbero potuto nascondere da un'altra parte no quello è chiaro vabbè se no fanno come i libri eh sì a parte non c'eriva nessuno credo che la gabola sia che loro in questo momento non hanno idea di dove sia cioè loro sanno che esiste sanno forse che cos'è però non conoscendo l'ubicazione di Laftail che servono appunto i quattro road per far scoprire dove sta appunto qui loro non possono neanche dire circondiamola con delle navi mettiamo lì delle guarnigioni qualsiasi cosa per far sì che qualcuno eviti di perché il momento in cui Roger arriva e ci arriva tranquillo e sereno vuol dire che comunque è sguarnita non c'è niente che lui abbia incontrato perché però il governo ad esempio non ha mai cercato di prenderli Stefanie Griff la domanda da un milione di dollari capito ecco cioè boh a me sembra come se loro già sapessero che c'è non c'hanno cioè allora la cosa che ho pensato è che per giustificare tutte queste minchiate che il governo vuole che venga scoperto non il governo im il governo no i cinque anziani lo status quo ma chi sta in testa ha questo desiderio che questa cosa forse venga scoperta quindi non interviene per far sì che magari joyboy ritorni e gli faccia il culo magari cioè sta aspettando che joyboy torni e faccia qualcosa perché finalmente possa affrontarlo e non so rompere il loop temporale non lo so questo mi piace molto questo mi piace molto cioè il fatto che in realtà im vuole che venga trovato il one piece torna perché non me lo giustifico cioè non avrebbe sentito così torna così torna ma in realtà a me su instagram hanno mandato una speculazione interessante una teoria che riguarda l'ultima isola che più ti avvicini e se sei fruttato ti senti male in realtà che nella giurma di roger gli unici due che non ci vanno la parola non ci va pure il rosso per solidarietà sono quelli che si sentono male che non ci possono andare ci sono sentiti male proprio perché si sono avvicinati avvicinati e ci vanno tutti quegli altri che non hanno frutti ci sono piccoli di frutti però no 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 di quelli che ci sono andati infatti invece l'unica giurma che a quanto pare non ci ha fruttati e che ci può andare e che prenderà finalmente one piece la giurma del rosso perché il rosso non ha poteri da fruttare infatti tu sei della teoria di Delly che è il vero cattivo finale ovvio ovvio la conosco in tutte le salse in tutti i modi chiaramente secondo me torna il fatto che Shanks sia il cattivo il boss finale il villain finale allora ti dico quello che penso io penso che Shanks faccia i suoi interessi perché a lui non importa di Rufy in quanto individuo ma gli importa di Rufy in quanto possessore del frutto di Nika ciò che vuole Shanks è semplicemente far sì che il sogno di Roger il suo padre reputativo si venga a concretizzarsi cioè lui vuole questa nuova era che probabilmente coincide con la volontà della D di Roger e di Rufy che sembra essere poi lo stesso sogno la stessa volontà quindi Shanks semplicemente sta facendo gli interessi di Roger e vede Rufy come una chiave è una chiave infatti quando vede Nika sulla taglia ah finalmente eccolo qua bene andiamo a prenderci il One Piece infatti in quella tavola io lo ripeto sempre secondo me quella è proprio la faccia da cattivo cioè non da cattivo però da uno che non si capisce è giunto il momento di andarci a prendere il One Piece con questo capito primo piano tutto ombroso ti vuol far triggerare no? lo sai io la vedo io la vedo molto io sono d'accordo sia con questa che col fatto io la vedo questa cosa che si va a Laugh Tale arriva Rufy e c'è Shanks che tipo lo aspetta e dice tu sei la mia chiave per accedere al One Piece la verità la verità è che come secondo me nel 90% delle cose Oda su questi macro argomenti mette tutto il contrario di tutto cioè lui dimette le vignette in cui Shanks è buono e le vignette in cui Shanks è cattivo non lo sa neanche lui se Shanks è buono o cattivo ci sono tutte e due così qualsiasi cosa succede tra 500 capitoli ci sarà il tizio in chat e farà ma avete visto il successo nel capitolo 1048 c'era la la faccia di Shanks cattivo e dirà ce l'ha già pensato lo sai anche perché fa così secondo me perché è arrivato a un livello tale dopo più di mille capitoli dove praticamente lui ogni capitolo si può leggere tutte le teorie che vuole e prende quelle che gli piacciono di più capito magari cioè dice questa cosa Shanks cattivo piace fammi andare a vedere va a vedere fa una ricerca su internet oh questa cosa piace figo secondo me è più preciso della ricerca su internet secondo me fanno proprio delle indagini di mercato ma figurati ma figurati è morto è morto Ace Ace però continua a piacere flashback con Ace cioè improvvisamente Ace è andato in un'isola in cui vanno inventiamoci Sabbo anche sì sì vabbè certo inventiamoci Sabbo ovviamente infatti voglio fare perché secondo me all'inizio hanno detto vabbè io mi invento Sabbo perché diventa il nuovo Ace poi però si è reso conto e con cui si Ace ci sta bene quindi lo rificca dentro perché guarda che Ace è uno dei più amati in Giappone è uno dei più amati ancora oggi cioè qualche anno fa quando Shumobu era andato in Giappone aveva chiesto per strada a gente ma tu conosci One PC qual è il personaggio preferito Ace 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 la gente dice cazzo ma Ace è un personaggio uscito tre volte poi è morto cioè che cosa siamo parlando e la gente c'è chi ha Chase forse perché è l'unico che è morto forse è l'unico perché è morto probabilmente perché non ha avuto il tempo di far vedere che in realtà non è così bello vabbè è quello che ha distrutto un un modus operandi che ormai era ripetitivo sì è anche vero che subito dopo ne mora un altro è una liberazione cioè Newgate era malato era vecchio ho fatto il suo russo larga i giorni era malato di altre cose i miei follower lo sanno che cos'era malato Newgate era malato di altre cose sì 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 ah dice per la famiglia voglio la famiglia quelle cose lì sì sì vedi se il DVD player lo sa e famo che se siamo capiti sì 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 ok perfetto va bene va bene va bene no comunque a me a me la cosa di One Piece che mi piace è speculare perché poi alla fine secondo me la bellezza di One Piece è quello è la speculazione sono molto più belle le teorie di quello che in realtà è vero è la forza di One Piece appunto che funziona di cliffhanger in cliffhanger in cliffhanger e quindi ti permette settimanalmente di teorizzare ci sono manga che è impossibile fare questo perché non puoi cioè io sto leggendo l'attacco dei giganti mi hanno forzato a leggere perché non l'avevo mai letto e dopo un po' dici ma cazzo se io vado avanti con le pagine è uguale non posso anche non leggere i diagoli alla fine si picchiano si picchiano si picchiano si picchiano si picchiano arrivi al cliffhanger però magari sono passati 4-5 capitoli dove si sono picchiati per diversi capitoli dove sei arrivato a volume 8 sono a volume 8 mi ha detto che comincia la roba comincia la roba pesa adesso come hanno detto eh sì sì adesso ci sarà cioè ecco va bene però i primi volumi dico essendo anche così cioè non ti permette di teorizzare One Piece qualunque capitolo succeda ti può permettere l'approfondimento c'è la cosa la cheat culturale c'è la teoria che puoi fare poi dirà questo si potrebbe collegare con questo alla fine è sempre qualsiasi capitolo che riesca puoi parlargli qualcosa io non penso che con tutti i manga possa essere lo stesso la forza di Oda è la forza di Oda bravo sì sì però quello che ti chiedo al riguardo proprio cioè questa che è la forza di Oda adesso che il il manga è in svolgimento non c'è il rischio che diventi la debolezza di One Piece una volta finito sì perché visto che noi facciamo sempre questa cosa del cosa c'è dopo cosa c'è dopo come come succederà questa mia idea questa sua idea quando finirà One Piece l'hai mai riletto no cioè allora ho visto prima l'anime poi ho letto il manga ok quindi non hai mai non hai mai riletto però non l'ho fatto esatto rileggendolo con il senno di poi vedi tanta di quella roba ma tanta di quella roba che comunque è come rileggere un altro prodotto con gli occhi di uno che ha già letto chiaramente hai già i segreti spoilerati cioè se tu arrivi al plume 12 c'è Crocus che ti racconta dell'isola finale eccetera eccetera lì c'è scritto in Giappone Raffutero non sai che è Laugh Tale se tu lo sai già poi sai già che è traslitterato così e cominci a mangiare un po' la foglia però ecco con la lettura con il senno di poi hai una visione veramente a 360 gradi che è come se tu lo rileggessi diverse volte in maniera diversa infatti questa secondo me è anche la sua forza il fatto che comunque questi collegamenti in continuazione con cose passate ti permettono di fare questi salti di qua di là e lo rende comunque piacevole sì sì no ma che la gente nuova che lo legge e anche quella che l'ha già letto lo rilegga secondo me ci sta e continuerà oddio c'è un po' un muro dato dal numero di capitoli c'è un tizio che mo' c'ha 6 anni e dice a 10 anni voglio cominciare a leggere un manga questo c'ha 1300 capitoli certo hai la paura del tanto però diciamo che è un è un colossal bello importante cioè non è un manga palloso ecco non è palloso no 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 assolutamente no palloso assolutamente oltre che cominci lo bevi sì sì no no ma io dico proprio la discussione online cioè il giorno in cui finisce One Piece non c'è più non ci sono più speculazioni quello sono d'accordo cioè alla fine anche One Piece funziona bene perché c'è la discussione online se non ci fosse internet non credo avrebbe avuto lo stesso successo che ha avuto perché è la teoria la speculazione l'immaginarsi cosa potrebbe accadere cercare di anticipare l'autore questa è la forza di One Piece che poi secondo me è la stessa forza anche di Game of Thrones cioè Game of Thrones adesso non so se tu la direi ma no Riccardo e anche lì durante l'evoluzione della storia internet secondo me ha giocato un ruolo importantissimo perché c'erano 8000 teorie chi saverà sul trono alla fine il tototrono eccetera eccetera il totomorti alla battaglia finale il tototrono del muori sì 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 sono d'accordo è l'effetto Lost no? nei forum allora c'è una domanda che hanno fatto in chat che era ti chiedono qual è la saga secondo te più iconica di One Piece e la saga più bella allora quella iconica ci penso quella più bella per me è Jaya e Skypiea ok no perché c'è qualcuno che dice Impel Down o Marineford io no per me Impel Down Marineford non l'ho mai sopportato cioè per me è veramente la lumenta della lumenta proprio la saga dei Medi per eccellenza stilettadina sì 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 assolutamente poi l'ho riletta letta in tutto insieme è anche piacevole ma è veramente è piena di buchi di trama e roba fuori di testa mentre quella più iconica potrebbe essere Wano credo per quanto poi si allunga cioè è diventata più iconica dici ma iconica nel senso che comunque considerando tutto il narrato e tutto quello visto è una pietra veramente miliare cioè adesso siamo in discesa Wano era veramente l'ultima scalata e il processo per arrivare a Wano comincia già a Pancazzard quindi io intendo come in saga di Wano comunque già anche la preparazione Pancazzard con Loh che fanno l'alleanza per sconfiggere Kaido poi arrivano a Dressrosa che comunque è un flamingo collegato a Kaido gli Smile poi c'è Zo che è collegato a Big Mom Big Mom poi collegato a Kaido cioè è tutta una preparazione è una sorta di Thanos del sì esattamente esattamente quindi comunque la saga di Wano è come Endgame volendo vederla quindi per me quello intendo come iconico cioè è una saga fondamentale perché è monumentale Agnese Lobby Agnese Lobby è figa è bella è tanto bella tanto bella però ecco non è paragonabile a Wano secondo me non perché Magno sia piaciuta particolarmente ma la vedo più come 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 il freezer di Dragon Ball eh 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 la saga di Namek ma ci sta perché le vecchie saghe comunque sia sono saghe eh proprio più piccole a livello di impatto sul mondo no cioè per dire a me è piaciuta tantissimo la saga di Arlong e Nami poi voglia però però quella al mondo non gliene frega niente a nessuno cioè è una cosa loro è una cosa in piccolo cioè Wano qua invece si sta parlando del destino un po' di tutto il mondo pieno piano vabbè giustamente man mano che stiamo avanti si allarga sempre dicevo il bacino di interesse del mondo certo fino ad arrivare alla fine che sarà il culmine dove ah senti ma mettiamo mettilo un po' in difficoltà che se no poi in chat si arrabbiano che non parlano dei Serafini e di quello che fa gli ordini dai no aspetta prima volevo chiedere un'altra cosa volevo chiedere un'altra cosa vai vai no ma secondo me è d'accordo con noi e il sogno di Rufy che cazzo è? allora parliamo di Miss Italia la pace del 2022 no no allora io sono convinto da tanto tempo che Rufy è un figlio di puttana dal punto di vista caratteriale cioè lui è egoista ad affraschifo e quindi ciò che lui vuole è qualcosa che in tutto torna conto a se stesso e poi di rimando gli altri ne giovano ma perché lui è la cosa poi funziona così cioè lui è sempre agito per torna conto personale quando lui va a salvare qualcuno in qualche riso non va perché deve salvare la gente ma lo fa perché deve aiutare l'amico di turno che gli ha dato del cibo quindi gli ha fatto un favore per aiutare l'amico che gli ha fatto qualcosa e quindi lui si sente in dovere di aiutarlo perché è ormai un suo amico eccetera eccetera con Wano ad esempio perché lui voleva fare il culo a Kaido perché Kaido aveva affamato la povera Tama che gli aveva dato una ciotola di riso se vi ricordate quindi io ho un po' il culo a Kaido ha dato il cibo alla gente quindi per me il sogno di Rufy innanzitutto si collega sicuramente alla volontà della D per me cioè la cosa siccome era già insita in lui quando era piccolo quando dice che l'ha parlato con Shanks quando ancora non aveva mangiato il frutto quindi è una cosa che lui ha già dentro di sé fin da bambino è qualcosa che si porta dietro da quando è nato quindi probabilmente la sua volontà la volontà della D che lui è portatore e la sua storia è sempre stata comunque una storia triste lui è sempre stato da solo a Fuscio lo vedi da solo non ha genitori non ha amici è lì in questo villaggio senza bambini è soltanto lui i suoi amici sono un vecchio sindaco Cagacazzi è la barista che gli dà la mangiare a scrocco per me il suo sogno potrebbe essere una cosa che universalmente può essere vista come qualcosa di Miss Italia esternamente con gli occhi dall'esterno ma dal punto di vista suo è una cosa egoistica al cento per cento perché lui dice è del tipo che io più figa per tutti io e i miei amici io voglio cioè io voglio che io e i miei amici stiamo bene capito cioè facciamo un discorso a monte lui dice che per raggiungere questo sogno deve diventare re dei pirati quindi poi parliamo anche di questa paraculata perché questa è una retcon puzzolentissima siamo d'accordo siamo d'accordo c'è niente da fare però ecco facciamo vediamo anche il discorso Roger Roger cosa fa quando parla con Newgate e Oden dice io voglio fare il giro del mondo con la mia ciurma voglio raggiungere l'ultima isola così che ho fatto questa cosa che nessuno ha mai fatto diventando di nome di fatto la ciurma migliore al mondo e io di conseguenza però sta cosa che è la stessa cosa che poi dice Rufy a Subway Days quando noi li vediamo nel flashback quindi questa cosa che dice Rufy deve collegarsi anche a quello che dice Roger cioè come un uomo di 50 anni che dice sta cosa che vuole fare il giro del mondo ottenere questo tesoro fantomatico nascosto lì e poi che cosa succede la reazione di Newgate è ma sei un bambino ma sei un moccioso che cosa stai dicendo l'altro è sconvolto idem e i suoi due compagnetti Savo che se la ride vorrei vedere davvero cosa vai a fare e Es dice ma stai scemo queste reazioni sui compagni Usopp che è il più diciamo che forse è il più umano della ciurma Usopp è l'uomo l'uomo medio e dice ma tu sei fuori di testa quelli che ridono sono Chopper che è un bambino Franky che è molto vario pinto molto particolare Nami è anche lei un po' così Zoro lo guarda male Robin lo guarda curiosa e Brooke che è chiaramente stralunato ride l'altro che guarda poi e poi ride è Jimbe dice ah si vabbè ormai siamo in ballo e balliamo anche noi dice c'è da capire effettivamente tutti questi puntini come si collegano nel discorso perché tu non hai soltanto Rufi da contestualizzare hai anche Roger quindi innanzitutto cosa hanno in comune la D quindi per me la D potrebbe essere il comune denominatore tra i due però c'è da capire effettivamente che cosa è di conseguenza a raggiungere la fine del mondo lo so la ricchezza fame e potere perché così ora tu puoi essere la persona più libera di tutti ma anche se fosse che cazzo cioè perché non dirlo cioè di sicuro adesso come adesso non è più diventare dei pirati il sogno è qualcos'altro in più il re dei pirati adesso è diventato è diventato la chiave è un sogno cioè il re dei pirati era troppo egoista come cosa allora Oda ha detto devo fare una cosa un po' più eh sì ormai adesso il sogno di Zoro diventare il mio spadaccino del mondo è uguale a diventare dei pirati infatti guarda a me piace molto la tua disamina soprattutto sul carattere di Rufy perché poi è la verità ed era quello che era Rufy fin dall'inizio cioè secondo me Oda all'inizio si era accontentato del concetto come sogno è diventare dei pirati perché gli sembrava già una cosa estremamente complessa e difficile da ottenere quando poi One Piece ha cominciato ad avere il successo che ha avuto ed è stato allungato così tanto a un certo punto secondo me Oda ha detto sta diventando uno dei dei manga più di successo della storia e il protagonista ha un sogno che è un po' sempliciotto e soprattutto non racconta niente non manda nessun messaggio è vero è vero e quindi secondo me Oda a un certo punto della relazione ha detto voglio che il mio personaggio mandi un messaggio sì sono d'accordo cioè è come se Oda comunque si fosse reso conto della portata mediatica che ha e quindi comunque lui i messaggi già li sta dando tantissimi anche con Saga di Agued ci sta raccontando il mondo dell'automazione il mondo anti-industriale dove tutto viene prodotto in automatico l'uomo è libero di fare quello che vuole perché ha tempo di pensare studiare e leggere e le macchine fanno il resto che è uno dei concetti che poi si pensava all'inizio degli anni novecento con anche Tesla ad esempio che l'energia è nell'aria e l'energia poi deve essere monetizzata e quindi diventa tutto business e quindi comunque avendo questo medium che gli permette di raccontare anche il suo pensiero politico perché se vogliamo leggere c'era un'opera politica ce l'abbiamo in One Piece Oda lo ha reso anche nel suo protagonista cioè trasformandolo in questo personaggio che prima voleva diventare il re quindi voleva diventare il più forte di tutti il più bello di tutti voleva diventare te voleva diventare me non ce la potrà mai fare e poi ha trasformato esatto questo voler diventare re per che poi se vogliamo vedercelo è anche uno diminuire sminuire la persona di Roger cioè Roger era il nostro goal non voglio fare la battuta con il goal di Roger però Roger era l'obiettivo era il re dei pirati quindi tu devi diventare come Roger adesso Roger non esiste neanche più perché adesso c'è il passo dopo c'è Joy Boy c'è Nika sì esatto è quasi uno sfigato il goal di Roger che è arrivato lì e non poteva fare niente è arrivato lì e sono arrivato troppo presto a me è dispiaciuto vi dico poi l'ho presa chiaramente con tutte le dovute cose ma mi è dispiaciuto vedere Roger messo in secondo piano è passato ad essere semplicemente quello che era arrivato lì prima per sbaglio poi è una chiave anche lui col lancio della grande pirateria ha portato a tutto quello che poi succede però prima da che era il primo influencer sì da solo essere un fine e un mezzo esattamente esattamente questo un po' mi è spiaciuto e allora guarda ti faccio un'altra domanda questa non so se l'ho fatta agli altri ospiti la voglio fare a te secondo te perché qual è il motivo per cui dopo il capitolo 1043 One Piece è stato riseguito da un sacco di persone che faceva soldi bella questa chiara secca diretta concisa non ho capito perché porta soldi nel momento in cui succede una cosa così grande la gente deve monetizzare semplice lui dice tutto l'internet ne ricomincia a parlare per monetizzare e quindi tutta la gente che segue l'internet perché la gente ha ricominciato a parlarne e lui ha detto perché un evento così catastrofico porta views e quindi porta soldi è un power up come un altro non è un power up no non è vero cambia tutto il concetto anche di chi è Rufy in realtà che tra l'altro a me non piace io penso che è semplicemente l'effetto Dragon Ball cioè è quella scena che è figa perché c'è il protagonista che sembra morto che però in realtà poi diventa l'eletto il Super Saiyan come contro Freezer quello è Goku contro Freezer praticamente sì e no perché comunque ecco Goku diventa perché siamo tutti un po' bimbo mici dentro diventa Super Chad Goku contro Freezer Rufy diventa un mentecato a cartone animato degli anni 20 comunque c'è una rottura dello schema da questo punto di vista ed è la rottura dello schema che ti fa discutere cioè la cosa che io ho visto veramente gente strapparsi i capelli bruciare il manga piangere vomitare eccetera eccetera non ce n'era nessun bisogno secondo me ma era proprio il dovere anche smontarlo parlarne male distruggerlo perché ti porta visibilità cioè io l'ho vista così io c'è parlo di One Piece da 12 anni ormai quindi per me è normale che fosse successo non fosse successo sarei comunque stato lì a parlarne e poi sono spuntati tutti perché bisognava parlarne è un evento sicuramente importante e bisognava monetizzare appunto per me è la storia qua sì sì ma poi secondo me anche un po' la curiosità del magari che ne so un tizio ha letto One Piece per 10 anni poi ha smesso 5 anni fa arriva l'amico su e gli fa oh non hai capito che è successo rufi in realtà non c'è il gom gom ma c'è un altro frutto e questo dice che cazzo è vado a vedere vado a vedere effettivamente che è successo poi la curiosità ci sta quello indubbiamente cioè io poi ti parlavo dal punto di vista dei creator poi parlando anche dal punto di vista normalmente di lettori ci sta anche che uno curioso venga a vedere si incuriosisca magari le legga due o tre e si riaccenda la fiamma quello ci può stare assolutamente sì però perché poi vedi pure Trono dice mi è successo anche a me il problema poi è come prendi quell'informazione perché puoi prenderla gasandoti oppure puoi prenderla dicendo ma che è sta merda certo ovviamente perché poi questo è il problema secondo me è una scena figa di per sé fatta male concettualmente nel senso che secondo me come scena fomenta è una scena che io ho detto dai figo così poi però ricollegando un attimo i punti dici no ok non torna quasi un cazzo va bene però tendenzialmente è una scena figa guarda io io ho cominciato a insultare questa cosa tipo 30 capitoli prima quando è uscito fuori quel personaggio che non era nessuno che non mi ricordo neanche come si chiama che dice che dice io io e tenevo d'occhio questo frutto schizzetto io quel capitolo lì mi sono incazzato io ero in live io leggo sempre il venerdì il capitolo in live ho letto il capitolo io ho chiuso la live io sono poi io sono andato di là in salotto mia moglie mi fa ma stai bene no no gli ho detto sono incazzato perché non mi puoi fare sta roba del frutto che Shanks aveva il frutto l'aveva portato con no no poi l'ho accettato poi l'ho accettato però io mi sono triggerato tantissimo no si pure io perché ho capito dove te voleva portare cioè non mi di più per culo e lì infatti mi sono preso molto male poi l'ho accettata va bene ho capito d'accordo non importa alla fine è un fumetto di merda però ecco mi l'ho preso molto male mi l'ho arrabbiato perché non ci stava non ci stava che il rosso avesse fatto tutto con preintenzione dava tutto ma infatti questo è Shanks cattivo questo è Shanks cattivo che sapeva tutto ha deciso di renderlo cattivo sì no che quindi ha dato il frutto e praticamente ha fatto sì che Rufy prendesse il frutto per renderlo la chiave per usarlo è palese ovvio ma io lo so io lo so che quando che quando Rufy arriverà all'after c'è Shanks là che dice ti stavo aspettando è il fitto del livello ma infatti cosa dice Domenico che in realtà Rufy non ha mangiato il frutto ha preso il potere no è Shanks che ha spremuto il frutto nel bicchiere di succo che gli ha dato prima bello questo questo poi è un po' però pensaci non so cazzate pensaci non so cazzate cioè la frase sarà è arrivato il momento di ridarmi il cappello Rufy no sì secondo me guarda se vuole fare proprio il normi sarà proprio ti stavo aspettando cioè questa questa è proprio lo vedo proprio me la immagino vignettata così ti stavo aspettando Rufy adesso saprai la verità voi che siete Roma immagino che conosciate benissimo i raminchia no? chi era minchia? quelli che facevano il doppiaggio di Oli e Benji su YouTube ah ok 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 sì sì ecco c'è la scena iconica dove Benji dal cappello a Ed Warner che gli ha cagato nel suo amato cappello no? io me lo immagino così la scena con Rufy e Shanks no? ti ho defegato il tutto nel tuo amato cappello è così è meraviglioso meraviglioso no comunque ripeto io non sono troppo d'accordo sul fatto di monetizzare cioè sono sì grazie grazie maestro guarda io non sai figurati sono amico di tutti no no io sono d'accordo che dal punto di vista degli streamers abbia giovato ovviamente alcuni l'avranno anche riportato per quello ma non è stato cioè il fatto è che per streamarlo vuol dire che c'è una richiesta quindi ovvio il mio ragionamento sta a monte il perché la richiesta è anche qua cioè ci sta e non è un'offesa cioè non è una cosa negativa il monetizzare io sono pro monetizzazione ovvio assolutamente e cioè si è cavalcato un cavallo che stava correndo veloce eh no ma infatti la mia domanda era perché correva così veloce quel cavallo cioè le cose potenti succedono per dire anche in altri manga però questa cosa ha veramente alzato ha triplicato quadruplicato quintubblicato le persone che si sono interessate vabbè però tu pensa all'epoca tipo che ne so quando Goku in Dragon Ball GT sono Super Saiyan 4 incredibile magari la gente che non si era mai in Dragon Ball GT ha detto vabbè fammi andare a vedere che cazzo adesso sarà per Saiyan 4 e quindi te lo vai a vedere guarda io mi ricordo quando ero piccolo proprio avevo 5 anni forse mio padre mi porta in un negozio cioè in una cartolibreria e ci avevo davanti due cassette una cassetta rossa e una cassetta blu la cassetta rossa era la prima la prima cassetta di Dragon Ball Z la cassetta blu era la cassetta di Dragon Ball GT io a quell'epoca avevo visto qualcosa avevo visto il Dragon Ball quello originale cioè la prima saga e non sapevo niente e ho scelto la cassetta rossa ho scelto la cassetta rossa dopo ci sono stati dei problemi però per questa perché la scelta è giusta secondo me la cassetta rossa la cassetta rossa è meglio però ci sono stati poi dei problemi per questa scelta primo ho scoperto che la cassetta blu erano 64 puntate la cassetta rossa è meglio la cassetta rossa era una spesa molto più molto più dispendiosa ma non solo perché a una certa che cosa succede Italia 1 decide di rimettere Dragon Ball Z e che fa tu lo vedi e il problema è che poi ha superato le cassette perché le cassette usciano una volta ogni due settimane quindi è stato tutto inutile me le potevo registrare una merda una merda e quindi lì effettivamente un po' rossicato poi in un futuro quando mi sono visto Dragon Ball Z ti ho detto vabbè alla fine non è che ho fatto così non ho sbagliato questa è stata la mia cosa però ad esempio c'è siamo contro la pirateria questa è stata la scelta la scelta della mia vita la pillola rossa la pillola blu qua il discorso poi in generale anche per i nuovi lettori è un po' diverso perché è strano che veramente abbia triplicato quadruplicato le cose perché la gente ha iniziato proprio a leggere anche One Piece per quel capitolo lì certo vero 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 infatti poi c'è gente con cui assolutamente nulla perché gli mancava tutto il dietro no sì sì per carità certo certo ma io guarda ti dico a me in generale l'idea perché a parole quando in un in un manga tu mi devi convincere a parole di una cosa di cui io non sono convinto coi fatti di solito ha un problema ok perché vuol dire che stai cercando di indottrinarmi su una cosa che ti serve a te per la trama che però io non sto percependo dall'interazione con i personaggi la storia e tutto il resto e questa cosa del sono libero sono libero sono libero mi sembra da una di quelle perché secondo me e cioè l'idea che Rufy abbia il frutto Nika che è quello di Joy Boy che c'ha la D e che quindi di fatto è il predestinato a cambiare l'ordine mondiale è la cosa meno libera che esista leva importanza anche al cammino dell'eroe secondo me no anche quello però la predestinazione è un legame indissolubile con la storia no? sì era bello che lui con un frutto di merda fondamentalmente riuscisse a diventare il re dei pirati sarebbe stato molto figo invece così sì sì vai ti faccio un altro ragionamento che perché ne ho parlato pure con insomma di questa cosa allora io allora innanzitutto io ho una mia idea su Vegapunk ovvero mi sembra che Oda parli con la voce di Vegapunk cioè quando Vegapunk ti spiega una cosa è sempre molto precisa quella cosa scusa un secondo Marco scrive per favore se dovete fare spoiler su qualche anime tipo One Piece avvisate e mettete spoiler nel titolo alla testa di minchia tipo One Piece allora noi parliamo di One Piece sempre il titolo è il regolo per insegnarci One Piece cos'è non fa spoiler e che cazzo e ti dobbiamo mettere ogni volta spoiler tra parentesi e dai su cioè poi posso capire che se uno fa spoiler dei made in abyss e ti stanno a parlare di One Piece ti c'è ho rosicato ci sta ci sta però su One Piece su One Piece cioè veramente se diciamo che ne so parliamo della fine del manga di attacco daidan posso capirlo per me mi andava di dirlo mi andava di dirlo perfetto comunque dicevo e a un certo punto Vegapunk diciamo che ti spiega come sarebbero nati i frutti del diavolo sì che è una spiegazione che a me piace ok ok cioè mi piace quest'idea che il desiderio dell'essere umano di superare i propri limiti generi questo questi frutti sì però c'è un problema il problema qual è? il problema è che è un retcon perché non è un retcon questa idea è un retcon il Nika Nika sì perché perché se tu dall'inizio pensi che lui non abbia il Gam Gam ma abbia il Nika tu avresti dovuto mettere un altro personaggio da qualche parte con il Gam Gam eh ma il Gam Gam non esiste eh ma perché ma non ha senso che non esista perché tu dici qualcuno ha pensato il frutto della gomma qualcuno ha pensato il frutto della gomma hanno pensato dei frutti allucinanti nessuno ha pensato il frutto della gomma possibile sì 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 su questo punto di vista sei l'assoluto ma che sarebbe stato interessante no ma il fatto è che sarebbe stato bello cioè se tu l'hai pensata quella cosa lo metti in scena sicuro perché è interessante cioè tu guardi un altro tizio e c'è un frutto che sembra uguale a quello di Rufi e dici ma come è possibile vero 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 questo sarebbe stato divertente da vedere e non l'hai fatto solo perché non ci hai pensato perché se no è un'idea geniale vero vero questo è sarebbe stato tipo uno contro uno ma questo c'è il potere che poi è Katakuri se vuoi vederla che c'ha il putter dello sperma c'è il mochi si capite chiesi che poi questa è un'altra cosa che ah sì questa è una nostra battaglia no 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 allora io c'ho una battaglia allora a me ma ce l'abbiamo tutti tranne forse Magirò a me One Piece diverte e in realtà ci sono anche a livello emotivo a volte mi prende molto cioè ci sono dei momenti secondo me veramente ben costruiti a livello emotivo però una cosa che odio di One Piece sono i combattimenti cioè per me i combattimenti di One Piece sei come me io non li sopporto io mi addormento mi annoio ho odorato One e Onigashima perché ci inframezzava dentro roba di spiegoni le storie dici ma io non ho mai tollerato infatti Marimpa come dicevo prima per me è una saga dei medi perché i medi si gasano sulle botte non è una cosa cattiva è una cosa oggettiva cioè perché così ci si fomenta sulle botte a me le botte non me ne frega assolutamente nulla voglio vedere la lore le spiegoni le pippe mentali perché su quello io poi mi diverto sì sì ma e mi dico perché leggi One Piece c'è un manga di botte ma dove che Oda stesso mi fa cacare le botte sono una parte integrale ma Oda più volte ha detto che lui ha inserito le botte perché doveva ma lui gli fanno cacare ma si vede ma si vede perché se il 60% dei personaggi a prescindere da quale sia il suo frutto lo usa per dare un cazzotto gigante vuol dire che non vuole metterci un po' di impegno nel pensare perché c'è Magneto cioè Kid è Magneto e usa il potere di Magneto per fare un cazzotto gigante cazzo è l'unica cosa che ti è venuta in mente pugno di mochi poi sai che fa faccio un rinoceronte che ti carica gigante certo cioè non riescono a pensare fuori perché c'è lui che lo prende in giro ma adesso cosa fai l'ippopotamo sì ma sì esatto perché bellissimo cioè quello c'è i mochi che fanno con i mochi dei cazzotti di mochi dipende pure dalla personalità del personaggio i cazzotti allora guarda posso dirti Kid Kid ha una personalità così Katakuri Katakuri ombroso tenebroso tutto concettuale c'ha le sue idee così e usa il mochi per fare i cazzotti di mochi dai che merda ovvio e fagli fare un'altra cosa Doflamingo alla fine finisce a cazzotti Doflamingo finisce a cazzotti vi ricordate cosa aveva detto la sconfitta di Kaido fa non so come battere Kaido diceva qualche anno fa e poi aveva detto non voglio far battere Kaido Rufi con un pugno alla fine come l'ha battuto con un pugno con un pugno grosso più grosso eh sì eh sì pugno grosso allora io però su una cosa devo dissentire allora il fatto è questo no non su quello che hai detto in generale su un concetto generale allora è vero che Auda possono interessare i combattimenti possono non interessare ok non sono il fulcro centrale però non è possibile che ogni volta che si critichi il fattore combattimenti che è una parte integrante del manga la gente mi dice ma non è quella la parte principale a me non me ne frega un cazzo cioè no quello è ragione è vero è vero io penso che non dico non dico tanto però un quarto un quarto di One Piece sono combattimenti ma io sono d'accordo con te un quarto non è un fattore mi sono forse venuto basso un quarto non è un fattore che tu dice vabbè ma non è quella la sua cosa principale no è una cosa che io comunque prendo in considerazione perché c'è nel manga oh perfetto aspetta bike metto un attimo in pausa questa live io sono d'accordo con te modico per cui non do un voto così alto a One Piece ma è esattamente quello che dico di no no è esattamente quello che dico di cosa di avatar e tu tu avatar tu su avatar fai vabbè ma sti cazzi della trama non è importante la trama è l'effetto visivo e no e no la trama però e allora come funziona su One Piece vai su avatar no 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 non è che lui ha inserito cioè la trama in un film ci deve essere eh per spiace la fai bene se no ne ha merda la fai bene ti puoi commetterli la trama ci deve essere un film ma che ragionamento è ma che vuol dire ci deve essere che forza può fare schifo ci devono essere i combattimenti un butter shonen ci devono essere i combattimenti che cazzo dici altrimenti non lo chiamava così scusa cosa e punto poteva fare non un butter shonen punto poteva fare un'altra cosa ma è realista poi tra l'altro ha preso poi lui ha preso poi un sistema di combattimento che in realtà è fighissimo perché tendenzialmente la cosa dei frutti è una cosa complessa se non gli interessavano i combattimenti poteva creare una cosa dove tutti se per andare a cazzotti punto vabbè ma quello perché fa figo cioè fa figo che ognuno ha il potere diverso cosa disse Oda nel 98 addirittura non lo so cosa disse nel 98 spiegava adesso come aveva pensato One Piece e quant'altro e diceva a domanda della del giornalista come Rufy batte i cattivi perché non li ammazza lui dice è perché vince chi urla più forte la fine non è una questione di chi è più forte fisicamente ma chi ha l'ambizione più grossa per farcela quindi finché Rufy urlerà più forte del suo avversario l'avversario prima o poi perderà è come Twitch vedi ecco vedi su Twitch non importa se tu abbia ragione o no è come lo dici e la chat fa sì sì vai è un forum praticamente One Piece vince chi urla di più e questa è la spiegazione della battleboarding di One Piece cioè alla fine non importa se tu ce l'hai più grosso l'importante è che è la voce più grossa però Trono c'ha un counter secondo me ha un counter Trono chi è il counter Laura ah Laura ah Laura sì sì Laura perché Trono si mette orlà con Laura che lo guarda non parla e Laura fa no vabbè perché abbassa la voce non si aspetta Laura che non risponde la pausini la pausini esatto eh 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 oddio ti volevo dire un'altra cosa ma in chat chiedono in continuazione la tua teoria su Crocus che tu hai no non è una teoria non è una teoria è una certezza scientifica e lo racconta il manga non l'ho inventato io ok ma tutte le volte devo spiegare sta roba leggete il manga Livio sei uno sfogliatore ma io manco io che gli hai chiesto a te colpa mia adesso gli hai chiesto a tu cioè non l'ho capito vabbè quindi il drago ma non vince nessuno dato che urlano tutti ma sì 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 beh comunque Goku urla di più di solito eh sì eh sì decisamente è il motivo per cui Vegeta poi non è più forte di Goku perché a quell'arrancare bisogna dire a Iacono di urlare di più quando registra così vedi che ce la fa ma ti ti faccio un'altra domanda secondo te qual è il punto di forza principale di One Piece e il punto debole il punto di forza è che è divertente secondo me e lo è sempre stato cioè tu leggi il volume 1 leggi il volume 105 provi sempre cose di cui divertirti e ridere quindi per me la sua forza è proprio il fatto che è esufruibile da persone bambini di 6 anni c'è il figlio di un mio collega del bike che ha 6 anni legge One Piece insieme a suo papà e lo capisce meglio di tanti adulti tra l'altro quindi anche questo è bello e il fatto che sia divertente e sia quindi leggibile da molti piani di lettura è secondo me il suo punto di forza cioè tu che sei adulto e hai una cultura magari dietro che riesci anche a comprendere Tesla per dirti o la metanarrativa o queste cose lo apprezzi di più un bambino ci abbiamo chiesto al figlio di Lorenzo cosa hai capito tu di questa cosa dei frutti che vengono creati dal pensiero e lui ha detto banalmente c'è qualcuno un dio forse ha detto che crea i frutti sentendo le preghiere e i desideri della gente bambini di 6 anni c'è senso Vegapunk ti dice la mia teoria è questa ti dice però tu devi comunque razionalizzare dicendo sì però ci sono ancora in un'aria da capire ci sono delle divinità che potrebbero essere effettivamente poi quelli che materializzavano questi pensieri concreti quindi un bambino che lo capisce lo capisce anche tu questo è il suo punto di forza è capibile da tanti punti di vista ed è divertente quindi dici che Oda ha l'intelligenza di un bambino ma ha lo spirito del bambino e ha mantenuto vivo il suo Peter Pan che è forse la cosa che poi si perde con l'età adulta con le scene sì esatto cioè per dire a me One Piece io l'ho iniziato tardi quindi a me ad esempio non fa ridere non ti fa ridere io lo leggo da 20 anni probabilmente io sono un imbecille l'ho sempre detto io quando vedo Tommy Jerry io sono un coglione e vedo i Lonnie Toons io piango dalle risate ma proprio piango dal ridere mi viene mal di pancia perché mi hanno sempre fatto ridere fin da bambino vedere queste cose mi fa sbudellare poi penso che sia questione poi di personalità alla fine cioè io rido per le puttanate e tu magari no no io rido per molte puttanate per dire per me non so se l'ho letto One Punch ho letto i primi capitoli sì 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 tipo a me One Punch mi fa ridere però One Punch è molto demenziale no però è una comicità molto sarcastica diverso ma non è allora no no infatti non è quello non è quello non è quello che ne so la vignetta l'ultimo capitolo l'abbiamo visto non è uno spoiler la scureggia gli si apre il terreno sotto i piedi e c'è quella quell'immagine che casca quella è una cosa alla Looney Tunes sì sì quella è una cosa però è fatta in un modo che mi fa ridere no ma fa ridere pure a me quella cosa One Piece invece si ferma a uno step dietro cioè non è quel demenziale che mi fa dire madonna quanto è stupido e non riesce a fare il giro ti piace un po' più alla Griffin per dirti alla Family Guy all'American Dead cioè quella quella demenzialità che è pura demenzialità probabilmente sì su alcune cose non so neanche come spiegare perché è difficile spiegare la comicità a Livio fa ridere TikTok chi è ecco sì cose così ad esempio ok è bellissimo benissimo benissimo sono quelle cose che non fanno ridere ma proprio perché non fanno ridere non sei un sommelier non sei un sommelier sì sì che c'è la tua merda diciamola così sì 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 esatto esatto e quindi cioè non riesco a capire perché One Piece non mi faccia ridere perché ad esempio gira aspettando mi dovrebbe far ride volevo chiedere a El Re cosa pensa del binomio immuguale immortale che possa essere quello resitale del precedente possessore del frutto di Trafalgar ah il trono dice cosa ne pensa del binomio immortale che possa essere quello resitale del precedente possessore del frutto di Trafalgar può essere come può non essere cioè non hai elementi per teorizzarlo lo puoi ipotizzare così hai un'associazione del nome ma il nome può richiamare anche divinità della cultura norrena ad esempio c'era uno youtube chiamato Im per dire Imir ce ne sono tanti dico boh potrebbe avere il suo senso sì sei lì da 900 anni potrebbe avere il suo senso però se fossi lì da 900 anni mi giustificherei altre cose ad esempio però boh può funzionare può funzionare va sistemato un po' dovere secondo me sì che poi sarebbe immortal in inglese come la D di Dream che molti dicono grazie Christian che molti dicono è la D e la D di Dream a me è più Domodossola invece D di Domodossola che è dove sta davvero il One Piece esatto a Domodossola bello a Domodossola arrivateci se ci riuscite trovatela vi dico che Domodossola esiste no ma scusa io non ti ho fatto aprire una domanda perché non era in topic però sento che si è arrivato il momento ma chi è il vice capitano no non c'è bella questa però mi piace non c'è il vice capitano quindi lui sbaraglia tutto tutto il binomio allora se dobbiamo cercarne uno io accetto colui che lo ha detto nella ciurma cioè Usop lui si è autoidentificato come tale ad Arabasta io sono il vice ha detto lo pensava nella sua testa ma gli altri non si sono mai presi la briga di prendere ruolo quindi nella ciurma di Uffi non ha neanche senso che esista un vice poi c'è Zoro che fa ogni tanto la parte del duro quando ad esempio a Water 7 o adesso ancora a Ged che gli ha tirato le orecchie per diverse cose Namik è anche lei la testa del gruppo rispetto agli altri che sono tutti dei microcefali cioè diciamo che si 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 tappano ognuno il buco che manca agli altri quindi si compensano volendo potrebbero essere tutti un po' vice anche ma non c'è di fatto non c'è non è una ciurma con un vice capitano questa anche perché sa la sente Delly Delly lo sa che io amo Sanji per me io sono sono sempre stato pro Sanji perché mi piace di più come è stato caratterizzato molto più bello non mi piace il boro Zoro mi piace per com'è perché è perfetto per com'è ma per i miei gusti personali preferisco Sanji però ecco non serve un vice in questa ciurma non ce n'è bisogno assolutamente che poi c'era la teoria secondo il quale tutte le menzogne che dice Asop poi invece si avverano sì 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 e quindi compresa anche il fatto che lui è il vice capitano è certo ovvio ovvio lui è un demiurgo lui è un creatore di realtà assolutamente no no però aspetta ecco su Zoro perché questa è una cosa che a me ha triggerato però magari a te non frega niente a me ha dato molto fastidio e mi ha dato molto fastidio il fatto che allora Zoro fa il power up contro King sì perché si ricorda che fondamentalmente il creatore della spada che ha in mano è anche colui che ha praticamente fondato il villaggio in cui lui è nato e che gli ha fatto pure da maestro sì però questa informazione lui la la ottiene tipo 70 capitoli prima e si ricorda e non collega niente che è stupido no il power up di Zoro a Wano veramente io l'ho trovato terribile terribile perché ha ottenuto la spada la storia della spada la spada è super figa perché era di Oden quindi è intrisa dall'ambizione di Oden la spada gli tira fuori l'ambizione gli tira fuori il re conquistatore gli tira fuori e a me è dispiaciuto tantissimo che lui non abbia sconfitto King non per merito suo o della sua Wado i Cimongi doveva essere la spada che è la spada del sogno Queen ma grazie a Emma questa so che i fan di Zoro mi odieranno ma permette veramente una scelta pessima soprattutto perché poi lui fa i buoni mentali capisce che King gli dice lui stesso qual è il suo punto debole dice ah si la fiamma ce lo capisce perché glielo dice King e poi lo sconfigge perché ha la spada super figa non l'ho apprezzato però ti posso dire che è in character col personaggio un grande cazzone che non va ad indagare su quello che gli circonda dicono ne frega un cazzo ma quello è perfetto il personaggio è perfetto esatto ma non è possibile che non ci hai pensato no non me ne fregava un cazzo fino adesso ma è giusto ma infatti è bello perché Zoro è fatto così Zoro è fesso come Rufi sotto tanti punti e funziona perché è così no ok però è come è come se Rufi si fosse scordato di Shanks cioè nel senso ci sono dei limiti a quanto una scena lui dice che non aveva mai capito lui non aveva mai capito che quello era il nonno di Kuina finché lui non è morto no diceva nel flashback poi cioè ci sta che tu non abbia mai collegato il fatto che venisse a Wano perché non lo sapeva l'ho capito lì no ok però il tuo il tuo villaggio si chiama come il creatore delle spade no il problema è il momento in cui lui arriva a Wano e scopre che ci sono gli Ishimotsuki e non fa uno più uno cioè quello che mi pare un po' strano cioè il posto in cui sei nato cazzo te lo ricordi anche se sei Zoro spero non lo so adesso io non sto nella mente di Zoro magari riesci a dimenticarsi anche quello perché non ci ha pensato un po' la cinepanettone no comunque allora domanda da un milione di dollari ci fai una una tua teoria un tuo pensiero su quello che succederà la prossima saga ai Serafini dobbiamo parlare dei Serafini chiudi Serafini a lui vabbè aspetta la linea di comando dei Serafini va aspetta senti sono curioso cosa devo parlare non ho capito cosa devo dire cosa succederà nelle prossime salle cosa succederà secondo te da adesso allora ora in poi diciamo che ho un buco perché finalmente ho questa questa cosa che non riesco a prevedere mi piace mi piace tanto di se dovessi dare un ordine al discorso c'è da capire come si incastra Heged e Cosme Heged acinoso l'isola di Barba Nera insomma se la cosa la risolve risolve posso dire Garp posso dire Garp l'ho detto Garp se la risolve Garp come Garp schioppa purtroppo lo penso anch'io però mi dispiace va lì schioppa basta che non mi fanno morire il me e questo è il collegamento ecco non tocca del me può essere quindi c'è da capire come si incastra la Barba Nera in tutto il discorso c'è ovviamente il discorso Elbaf che va portato a termine per forza perché è dal volume 13 che c'è Elbaf nelle nostre teste e poi penso che il raggiungimento del quarto road si possa completare in queste due fasi o c'è la Barba Nera o ce l'hanno i giganti una volta che hanno tutti e quattro per me vanno a Love Tale scoprano cos'è il One Piece ma non te lo dice è il figlio di puttana tu vai via da Love Tale senza sapere cos'è il tesoro vanno a Marijua ci sarà la grande guerra e l'ultima cosa che vedi è cos'è il One Piece quindi per te non è proprio l'ultimissima cosa il One Piece l'ultimissima cosa che vedi che vedi ma non che succede è necessario secondo me che loro vadano prima a Love Tale perché il tesoro è io aggiungo il tesoro ok come ha fatto Roger ma se non sblocco quella cosa che Roger non ha sbloccato perché io devo muovermi contro il governo mondiale perché Im si deve incazzare perché il governo si deve spaventare perché ho raggiunto il tesoro quello che si nasconde una volta che ho ottenuto il quadro completo la storia completa so perché le armi servono a fare questo so perché questo serve a fare questo so perché Zunesha serve a fare questo e allora con la consapevolezza vado contro il governo e contro il governo mi piacerebbe tanto che la verità del governo andasse a completare la verità del Regno Antico cioè la verità del Regno Antico non è soltanto la pura verità è soltanto la parte loro quindi tu hai la verità completa quando serve tutte e due le campane e una volta che hai questo ti fa vedere il One Piece alla fine l'ultima cosa ti fa vedere così dici ah ecco così era il One Piece il cappello il cappello bruciato gliel'ha bruciato un tizio un pochino ok 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 ma è interessante interessante io vedo un Garp che ci lascia vedo Rufy che si incazza che lo viene a sapere e sarà il collegamento per cui ci sarà lo scontro Rufy Barbanera sì io speravo che fosse Shanks questa cosa io ho sempre mal tollerato l'esistenza di Shanks non tanto perché lo trovo un cattivo personaggio ma perché è scomodo no un po' come come lo era Ace ad esempio nella narrazione il mentor è fortissimo qualcuno dovrà toglierlo dai maroni tu ci vedi Shanks vivo dopo il tutto no è Barbanera è per questo che Shanks è cattivo mi stuzzica a me è stuzzica solo per quello perché effettivamente almeno lo contestualizzi in tutto ciò però va bene va bene lo stesso vediamo no sì secondo me succederà qualcosa per cui dopo o dopo Barbanera o prima di Barbanera ci sarà uno scontro con la Marina eccetera cioè io One Piece invece lo vedo proprio come l'ultima cosa cioè mi immagino proprio quasi senza vignette cioè senza balloon loro che arrivano tutto questa calma no e finalmente poi si scopre proprio nell'ultima pagina secondo me per come scrive Oda la parte più difficile ah è Shanks che lo aspetta ovviamente lì la parte più difficile ti stavo aspettando ti stavo aspettando scontro e poi momento di calma dovete fare l'emoji perché tu ti stavo aspettando ti stavo aspettando ti stavo aspettando gli occhi di Shanks secondo me la parte più difficile per come scrive Oda da mettere a schermo in maniera degna sarà quella dei rivoluzionari secondo me perché Oda non è abituata a scrivere in parti lunghe senza la Shurmai Rufi eh sì ma infatti gli rivoluzionari sono uno scam assoluto cioè sono l'inutilità fatta bravo e infatti c'è il rischio che alla fine della storia dici rivoluzionari che cazzo ci hanno messi a fare e paliranno della guerra finale dove finalmente verranno i sì saranno gli aiutanti sicuro 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 grande ricercato del mondo il più forte il più figo in realtà una sega in marcia Rufi in due anni ha fatto quello che doveva fare Dragon in vent'anni sì 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 secondo me faranno la parte degli aiutanti però secondo me gli sta stretto nel senso tu me l'hai preparati da troppo tempo faranno una cosa fondamentale no no ma a me non interessa l'azione chi ammazza chi a me interessa la caratterizzazione cioè sono sono deboli a livello di caratterizzazione cioè tu non gli vedi fare niente non vedi quello chi sono non hai hype non hai hype di rivoluzionare cioè io adesso che vedo o hype per Orso perché abbiamo conosciuto abbiamo visto il background adesso ci si scala a capire che cazzo fa Orso ma Dragon Belobetti Koala e tutti gli altri stronzi di Akamavacca cioè se pensi poi che Orso l'hanno portato via e sono tornato là capisci quanto sono di fondo a proposito secondo te Orso voleva effettivamente andare lì non lo so non lo so perché sa capire se si è schiantato secondo me però non ha molto senso se si schianti perché adesso lo spiego se lo posso motivare è una cosa molto fantasiosa la redline sembra essere lì per sbaglio nel senso sembra una cosa artificiale abbiamo detto più o meno tutti che la redline potrebbe essere una cosa creata ad arte tempo tempo fa e se la memoria del frutto non concepisse la redline su una linea retta e quindi lui doveva passare invece non ci è passato però no però aiutami tu allora perché io ho una cosa che non mi ricordo bene quando stanno alle sabaudi sì e lancia in giro la gente nessuno ha passato la redline nessuno passa la redline perché Robin va nel list blue che è sopra e Chopper nel south che è lì sotto quindi sono tutti in linea d'aria non hanno ostacoli nessuno supera la redline ok nessuno di tutti quelli che viene mandato nelle isole supera la redline va bene per quello che ho pensato allora torna ci può stare per quello che ho pensato questo era l'unica cosa o il frutto non concepiva l'idea della redline altrimenti lui voleva schiantarsi lì per fare qualcosa non lo so però sarebbe stupido se si è fracassato la faccia andando contro il muro quindi non lo so sì no tra l'altro sarebbe anche strano a livello di scrittura che tu mi fa vedere che lui si attiva per la figlia e poi no chiaro poi come dice uno in chat dice c'è il problema di Nami che va all'interno del cielo infatti Nami viene spedita su Eteria che sta in cielo quindi comunque penso che lui se voleva schivarla la riusciva a farlo eh sì no infatti quello dico cioè non l'ha si è scordato non l'ha preso in considerazione ci ha pensato un'altra cosa riguardo Kuma un'altra cosa importante perché quando è uscito fuori il capitolo in cui ehm oddio Bonnie dice che praticamente è la figlia di Kuma e e Kuma è di un'altra razza sì sì dice che appartiene sì 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 perché perché il padre tutti tutte le sere gli diceva questa cosa sì per traumatizzare la figlia va bene ok e quindi vuol dire tra l'altro che anche Bonnie appartiene ad un'altra razza eh dipende perché sai che in One Piece la famiglia è molto labile eh ok ok quindi non è famiglia di sangue va bene ci può stare però Bonnie sa di che razza è Kuma certo ok siamo d'accordo no perché io invece qua ho discusso molto la chat diceva non è vero non lo sa non lo sa non lo sa potrebbe per forza potrebbe non saperlo perché lei è vaga si gioca sempre con queste stronzate si ho capito ma come fa che vuol dire c'è Kuma io mi immagino Kuma davanti alla figlia non l'ha mai chiesto sì non ha senso hai capito che fa appartiene ad un'altra razza e la figlia fa che razza e lui di solvenza nel nero che sparisce non te lo dico esatto tutte le sere e dai insomma che senso c'ha cioè è una cosa che gli dice per forza se no non gli dice neanche che appartiene ad un'altra razza logicamente sì logicamente sì assolutamente ok sarebbe sarebbe fuori di testa si fa lo scherzetto Maggi sta fremendo oh arriviamo ai Seraphim che Maggi ci viene dica maestro ma no se ti è piaciuto il plot twist della linea di comando di come cambia nell'ultimo capitolo a parte che la voce di Maggi mi fa venire il pipo grosso no perché hai visto c'è stata c'è stata tutta la diatriba qui da noi relativa al fatto che ha fatto male si è fatto male i conti Vegabank quando ha ideato la linea di comando e di conseguenza adesso i Seraphim sono passati dall'altro lato semplicemente per una sorta di azione finale che non torna la merdata cioè il comando finale dato dal morente che non è morente ma è incosciente e quindi non vale più la cosa lì non ha nessun senso ma proprio perché nel momento in cui loro si dovessero trovare davanti a Vegabank ha già il comando no quindi il CP che vuole vuole fare il culo ai 6 Vegabank ma i 6 Vegabank sono più forti di loro al punto di vista di comando di che cosa stiamo parlando ma anche perché ma lo sai com'è che si chiama Totomaru infatti Sentomaru 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 si ritrova davanti la CP e fa no andate andate non c'è più tempo andate andate e dice Serafini proteggetemi è chiaro infatti la cosa è invece nel taglio scena i Serafini sono passati dalla parte non ha senso per come è stata sceneggiata quella scena è brutta da vedere perché è proprio stupida è proprio stupida anche nel momento in cui Sentomaru gli dice attaccateli loro devono loro hanno una missione sono improntati a missione quando loro arrivano a Eged dice Pitagoras dall'Interfon dategli l'ordine di tornare a Eged così la missione è completata se la missione è uccidete il CP devono completare la missione bravo a meno che a meno che qualcuno più alto di Sentomaru in comando a meno che uno più alto non riscrive la missione ma loro non sono più alti di Sentomaru no è bravo infatti non c'ha senso non c'ha senso cioè è come se se uno dà una pizza a Sentomaru la missione viene annullata cioè non so qual è il collegamento tra Sentomaru che viene picchiato e la missione poi posso dire che proprio a livello ma questo sembra quasi una ripetizione i gorosei non brillano di cioè proprio di intelletto perché perché se tu fai costruire delle macchine di istruzione di massa che tra l'altro possono venire a romperti il culo pure a te in teoria dai il secondo in comando a Vegapunk dai il secondo in comando a Vegapunk e tu che stai sempre sopra Arcocuzzolo non puoi dargli ordini perché soltanto a voce diretta diretta quindi i gorosei non daranno mai un ordine a un a un Serafim cioè non sarà mai loro il Serafim Luca dice siete proprio dei lettori eh sì sì ma infatti immagino lui ha svelato tutto ma prima o poi rifacciamo Discord così torna Luca Matteo saltuariamente Luca Matteo è scritto male è scritto male il problema è scritto male sì ma perché ma che in realtà c'è tutta questa scrittura secondo me viene soltanto per far avere un momento di empatia con Sentomaru ma certo ma ovvio però mi sembra pure un po' debolusce la vuoi smontare facile sta scena cioè tu prendi Shaka ad esempio prendi i tre Serafini rimasti quello di Crocodile di Flamingo di Moria se dovrebbero essere loro scendi con con Shaka i tre Serafini e dici voi quattro tornate di qua finito il GP0 no mandiamogli quello quello misterioso sai cos'è il problema di questa parte più di tutti più di queste piccolezze eccetera è il fatto che io non senta la tensione cioè a me non me ne frega un cazzo se non torna e cose però il fatto che tu mi rimetti Luci con Rufy così forte mi cerchi di pomparmi questi Serafini sono fortissimi le cose più forti che abbia mai visto non non provo quel senso di oddio qual la situazione è critica non l'ho provata questa secondo me è la cosa più grave cioè a me del resto me ne frega il giusto però io voglio sentire no che se c'è un problema quel problema io lo voglio sentire cazzo qui c'è veramente un problema con Nika di mezzo non c'è più esatto esatto c'è proprio a powerapparmi Luci non non è barba nera gli può ciucciare il frutto quando lo tocca con il vorgo scuro ma gli altri non hanno più nessun tipo di influenza su di lui cioè io vedevo la gente che si triggerava ah qui Luci fortissimo è stato già Rufy non ha fatto niente ha riso per mezz'ora gli ha scorreggiato in faccia e gli ha dato ha creato la materia Livio che ha creato la materia quella stronzata Livio non hai letto bene perché non hai notato che Rufy ha gli occhiali adesso vai in giro con gli occhiali visto e quindi crea la materia non vai a cagliare vuole soltanto fargli fare la scena sua lettori pigri sfogliatori e no ma perché poi non ci rendiamo conto che se davvero vogliamo prendere in considerazione il fatto che Rufy crea la materia poi si creano 8000 buchi di tram cioè è meglio far finta che è una scena goliardica ma è palesemente The Musk The Musk pure si creava creava la materia prendeva le pistole finte e cose è così cioè lo davo per scoddato non è una cosa che mi ha fatto gridare al wow sono cose che rimangono comunque cioè sono cose che poi nascono e muoiono nel momento in cui lui non gli serve più sì sì ma io ti dirò anche sta cosa secondo me questo però è un mio secondo me il problema non sarà solo barba nera e il potere di Rufy che adesso vediamo inarrivabile secondo me non dico che verrà annerfato ma annerfato nella percezione cioè ci sarà qualcuno che potrà combattere contro un Rufy io credo che questo possa essere Im ma non perché sarà più forte dal punto di vista fisico ma perché no ecco il rosso ha la super ambizione della telefonata che chiamava la Maki pronto vattene ti ricordi però a parte l'ambizione poi qua un gioco da chi ce l'ha più grosso alla fine chi urla di più ricordiamo come diceva prima Im che mi sembra proprio l'anti-immaginazione l'anti-fantasia sembrerebbe poi questo cioè il capitano uncino di Peter Pan un counter naturale dici per me ecco potrebbe cioè Rufy è creativo nel momento in cui riesce a avere fantasia immaginare riesce a pensare divertirsi magari quell'altro lo nerfa riuscendo a togliergli questa volontà questa capacità di sfruttare la sua innata fantasia vabbè la tizia che ha combattuto contro Asop Perona Perona esatto tipo Perona il problema è questo cioè il problema è molto semplice in realtà in queste cose quando un personaggio ha un power up vedi il personaggio che spacca al culo a quell'altro e dici questo è imbattibile ok fino a che non ha uno scontro con un tizio più forte come ad esempio facciamo sempre esempio di Dragon Ball che è una cosa che hanno visto tutti io non è che faccio sempre Dragon Ball perché vedi il Super Saiyan dici fortissimo poi vedi C-18 contro Vegeta che gli spacca il braccio gli spacca il culo e dici ma come è possibile questo deve essere più forte dell'universo non lo è non lo è ed è molto semplice non è che Vegeta è stato nerfato semplicemente in realtà la percezione che avevi però anche lì ovviamente poi si creano altri problemi ad esempio io spettatore ho visto un combattimento tra il Saiyan leggendario della leggenda eccetera eccetera contro il dominatore della galassia e poi viene fuori che due robottini di merda creati dal Dottor Gelo sono dieci volte più forti è una merda in One Piece io ho paura che fidatevi che Rufy secondo me lo vedremo in difficoltà in questa forma non solo contro Barba Nera vedremo anche perché Barba Nera è un problema grosso cioè Barba Nera no non è doppio potere Barba Nera è o te lo ciuccia o non te lo ciuccia perché se te lo ciuccia gli piace anche è finita cioè nel senso è difficile da calibrare uno scontro del genere perché uno scontro te lo ciuccia o non te lo ciuccia infatti come finirà Barba Nera Rufy appugni per forza sì una cosa del genere si appugna oppure guarda ecco mi è venuto adesso anche se in realtà mi è venuto adesso incredibile glielo ciuccia glielo ciuccia ma lui non può averlo non può e quindi c'è questo rigetto non riesce a contenerlo non riesce a contenerlo non è capito e quindi c'è questo è e alla fine si danno i pugni un po' come le troppe ombre di Moria dici no? quando mangia troppe ombre sì però il problema in realtà è che se in questo momento te Barba Nera ti ciuccia il potere e poi usa il terremoto tu non hai più tu non hai più il potere certo quindi muori e basta cioè poi questa cosa non succede perché diciamo che non la vorranno far finire così facile ma succederà questo il punto poi sarà che si colpiranno dalla distanza Rufy cercherà in tutti i modi di colpirlo dalla distanza perché finché non lo tocca non gli toglie il potere sì 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 infatti quella parte credo che sia la cosa interessante è quello che hai imparato a Guano di fare l'ambizione sarà un combattimento secondo me difficile da gestire comunque secondo me Luci ricopre una carica che non necessariamente deve essere quella di essere a livello di Rufy a livello combattivo quindi a me Luci non dà fastidio a me danno un po' fastidio i Seraphim perché anche qua i Seraphim sono Odimo guarda quanto sono forti ma sono fortissimi questi potentissimi fortissimi ma non fanno niente cioè ci sono i Seraphim mentre c'è la la situazione lì con Barba Nera Boe Hancock e i Seraphim che dovrebbero essere fortissimi spaccolco a tutti di fatto non risolvono niente addirittura il tizio della marina che stava con i Seraphim finisce rapito io non ho capito cioè alla fine hanno rapito il tizio della marina che c'era i Seraphim gliel'ha consegnata i più coglioni di tutti cioè Paolo Gobbi e quello che ha salvato la situazione è Raelig non i Seraphim certo certo quindi c'è a che hanno ha spaccato la montagna però ha visto la montagna boom spaccato e sti cazzi cioè non fanno niente non sono anche qua combattimento usiamo i Seraphim sono fortissimi e poi invece no cioè loro stanno vincendo una battaglia e per qualche motivo scappano ti vuole mettere una tensione secondo me che io non percepisco e cerca di di mettertela capito guarda che questi qua sono forti come dice il mio amico Frank che è romano come voi è una coattata è una coattata sì 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 è una coattata forse anche per cercare di vendere qualche pupazzetto di quelli da piccoli i figurini i carte del gioco di compilare il gioco delle carte mazza questi sono forti lo puoi mettere i sette le composizioni i sette serafini bello 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 pure i sette originali del chiaro dietro adulti bravo bello bello fatto lì in sala tutti i 14 bello comunque allora io ti ringrazio tantissimo secondo me è stata una bella live bellissima bellissima live vedi una piacevole sorpresa sempre rompe i coglioni metalba sempre rompe i coglioni spiegaci re perché ti ha fatto cagare walkie island walkie island ho trovato noiosa la seconda parte della fuga quando cominciano a scappare dal castello perché sembra proprio messa lì per allungare il brodo non serve a niente c'è big mom che è triggerata sanji fa la torta e non serve a nulla rufi guarda a caso finisce nel mondo degli specchi che non combatte contro big mom impara l'arte di vedere la nel futuro e poi scappano e non muore nessuno a parte pedro che forse è ancora vivo cioè non mi è piaciuto come l'ha intermezzata così cioè fino al matrimonio mi piace è fatta anche bene è divertente a parte la foresta che è un po' pallosa quando si picchia con creca però la seconda parte è un po' bread in cake bread in cake è un po' messa lì a caso sembra che volesse allungare il brodo perché big mom ha fatto una figa di merda ma beh sì perché in realtà è quello secondo me lo fa perché vuole intramezzare il combattimento katakuri rufi con altre cose sì quello che succede agli altri però in realtà quello che succede agli altri ti interessa il giusto ma anche le 99 ricette di sanji che fa questa torta incredibile fondamentale poi la mangia e rutta e torna a posto cioè va bene mi mamma è fortissima ma sanji è un coglione cioè questo punto le 99 ricette di camabacca non sono mai servite da nulla nessuno sì sì però a me a me però la prima parte di cake island mi è piaciuta tantissimo quella è bellissima è bellissima pudding è molto bello con il personaggio la costruzione cioè figo però no sono d'accordo ma come poi anche wano cioè secondo me la prima parte di wano è molto interessante e la seconda cioè la seconda sono una marea di botte tra l'altro se posso la sciurma di kaido secondo me è la meno ispirata da tanto tempo a questa parte sono personaggi veramente che boh a me Queen mi ha fatto ma no ma sono tutti dinosauri che non hanno nessun nessun'idea geniale banali non lo so proprio cioè mi sembra una sciurma da inizio manga sai dici uno dei primi avversari i dinosauri e ho capito c'è di avere però lo spunto c'è di avere lo spunto cioè non c'è stato lo spunto sono un po' contadinotti sono un po' contadinotti cioè li vedi sono grossi grossi cattivi e stupidi cioè alla fine ma anche kaido volendo è forse posso dire che in realtà secondo me è voluta la cosa cioè lì c'è kaido si 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 è volutissima io ho tutti i truppini nessuno di voi deve usare mettermi mai in discussione è volutissima è volutissima e funziona siete tutti dei livio è voluta e funziona perché è così nel senso se tu guardi l'analisi proprio del personaggio kaido è il classico villain di fine gioco grosso cattivo e puzzolente che ti mena si che ti mena a pugni e calci e scorreggia Bowser o Mr. Bison di Street Fighter cioè quei personaggi che sono grossi e cattivi sono lì devi buttarli giù per forza devi buttarli giù per forza differenza magari di uno Shanks anche di Big Mama ad esempio Big Mama è cervellotica c'è questa intelligence potentissima lei che poi smagrici diventa la super figa poi ingrassa torna cattiva forse ha sprecato tempo con Big Mama a farla scappare piuttosto che darle una caratterizzazione più interessante perché poi l'ha riportata dentro Wano ma lei era comunque in secondo piano rispetto a Kaido tant'è che l'hanno sconfitta che chiede secondo me è un po' tortellona secondo me è stata eccessivamente svenuta messa da parte cioè era meglio non farla vedere secondo me che trattarla così infatti io speravo che tornasse ad Elbaf dopo ma torna sicuro ma non è morta ragazzo ma non è monoporto io spero di no io spero che sia morta non è morta anche perché te lo dicono i targhetti se muore non c'è la targhetta guarda l'unica possibilità che posso dare a Big Mom che non sia morta è che i figli stronzi erano ancora sotto la cascata per andare a prenderli ah già la nave non si sa che fine ha fatto no si sa lo dice Morgans quando poi finisce Wano c'è questa vignettina ah sì ho sentito che un'interferenza erano i figli di Big Mom che erano ancora lì nelle acque limitrofe quando il vulcano ha schizzato ha sparato fuori i due cattivoni magari lei si è salvata e quindi tornerà come appunto Big Mom Vader con l'elmo vediamo vediamo allora c'è una morale in questa live c'è una morale ogni tanto ogni tanto Anime Night lancia delle morali che sono molto importanti per le persone che ci seguono noi sappiamo che comunque abbiamo un dovere anche no essendo un po' degli influencer non mi sento così responsabilizzato ogni parola che dirà possiamo lasciare delle morali questa è una morale molto importante ricordatevi sempre che essere fan di una serie non ti rende coglione a prescindere e accetti tutto quello che ti dice quell'opera come vedete il re ama One Piece riconosce che ci sono delle stronzate io amo Dragon riconosco che ci sono tante stronzate siate come come noi accettate il fatto che la cosa di cui siete fan ricordate che anche i Beatles hanno fatto canzoni di merda ah io sono un grande fan dei Pink Floyd li adoro ma sono consapevole che ci sono canzoni che non sono paragonabili a tante altre canzoni esatto i Dream Theater hanno fatto canzoni diceva diceva il maestro Richard Benson che anche la merda avrebbe valore se l'uomo nascesse senza culo questa è bella questa è molto molto bella pensateci non so cazzata grazie mille grazie mille seguitelo quando torni live su Youtube io sono su Youtube tutti i pomeriggi alle ore 15 e poi la live col capitolo alle 14.30 al venerdì su Youtube mentre su Youtube ci sono i miei compari che parlano anche d'altro quindi di anime manga e comics cinecomics cinepanettoni tutto quello che succede perfetto ciao ragazzi ci vediamo stasera alle 22.30 con la Champions League incredibile format degli anime seguitelo perché oggi saranno mazzate a non finire ciao belli alla prossima ciao 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 a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.